ciao benvenuto sul mio canale io sono valentino vitali un batterista di milano questo è il mio studio da qui che ho registrato la cover che stai per ascoltare il brano di oggi si intitola bacalao con pan ed è nella versione di harold lopez nusso un pianista cubano fenomenale che ha fatto una rivisitazione di un brano storico del 74 degli iracherei che erano il primo gruppo di ciuccio valdes ovvero uno dei pianisti più influenti di tutta la storia di cuba in questa versione harold ha riarrangiato il brano per un trio se sei anche tu un amante della musica latina come me questo video può fare al caso tuo come anche altri su mio canale perché fa parte di una serie che ho chiamato best of latin dove condivido delle cover di tutti i brani che mi hanno maggiormente influenzato nel corso della mia formazione per non perderti questo ed altri video ti consiglio di iscriverti al canale di attivare la campanellina così sarai sempre aggiornato sulle prossime uscite buona visione ea presto A presto! Grazie a tutti! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.